Grazie ancora, grazie per l'accoglienza, il calore, grazie. Intanto vorremmo a nome di tutti ringraziarvi per questa occasione che ci hanno dato. Speriamo che l'ospedale in Sierra Leone venga costruito il più presto possibile per dar modo a questa povera gente di riuscire a vivere una vita dignitosa. E dunque, volevamo mangiarvi con questo brano, non vi stiamo a dire di che si tratta perché lo riconoscerete. E ringraziarvi e un augurio di rivederci quanto prima. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.